Tra i pasti devono esserci almeno 5-6 ore di spazio. Il modo ideale di vivere è non c'è sonno nella mia vita. Ma questo non è possibile al momento. Il corpo ha ancora un po' di inerzia, quindi dorme un minimo. Il resto del tempo è a suo agio. Consuma un po' di miele in acqua tiepida, quotidianamente, e vedrai. Lentamente la quantità di globuli rossi aumenterà. Quando si tratta di cibo, una delle cose più importanti di cui devi essere consapevole è un certo giorno, quando mangi un certo tipo di cibo, qualunque cosa mangi, devi notare consapevolmente quanto velocemente è digerito e diventa parte di te. Qualsiasi cibo mangi, se dura più di tre ore, significa che hai mangiato cibo cattivo e che è qualcosa o da evitare o da ridurre in quantità. Se il cibo esce dal tuo stomaco entro tre ore, questo significa che mangi qualcosa che il tuo sistema può gestire efficientemente. Potrebbe non essere il miglior cibo, ma il tuo sistema è in grado di gestirlo. Tra un pasto e il successivo, se crei un netto intervallo di 5-6 ore, e se in mezzo non c'è altra ingestione, vedrai il processo di pulizia nel sistema. A livello cellulare la pulizia avverrà. Questa pulizia a livello cellulare è molto importante e significativa per una vita sana. Quindi tra i pasti devono esserci almeno 5-6 ore di spazio. Se hai più di 30 anni, due buoni pasti al giorno saranno sufficienti, uno la mattina e uno la sera. Dopo il pasto serale, prima di andare a letto, ci devono essere un minimo di 3 ore e se c'è una certa quantità di attività fisica, non necessariamente attività molto pesante o faticosa, solo una semplice camminata, o forse una danza o qualcosa così. Crea qualcosa per te stesso, in cui per almeno 20-30 minuti c'è qualche attività fisica dopo il pasto serale. Se fai questo, in buona parte il tuo sistema sarà sano. Anemia significa a un livello il sangue ha perso il suo ferro, il che significa che hai perso il tuo acciaio, ok? Hai perso la forza nel corpo, ti sentirai esausto, semplicemente esausto per niente. Perché quando il ferro necessario non c'è, la tua capacità di portare ossigeno attraverso il corpo è ridotta. Ciò significa che il tuo corpo, il tuo cuore, il tuo cervello, tutto sarà ad un livello più basso di funzionamento, perché non hai abbastanza ossigeno. Aumentare l'ossigeno nel sangue è una delle cose importanti, perché quanto sano è il corpo, quanto facilmente si ringiovanisce, dipende da un alto livello di ossigeno nel sangue e quella capacità diminuirà. In particolare le donne devono stare attenti a questo, per via del processo biologico, che il loro contenuto di emoglobina può calare e la loro capacità di trasportare ossigeno nel sangue calerà, il che le renderà inutilmente esausti, le farà sembrare non intelligenti. E sì, se i globuli rossi sono bassi, ti senti stupido, perché non c'è abbastanza ossigeno nel cervello e non funziona come deve funzionare, né il corpo, né il cervello. Per occuparsi di questo, una delle cose semplici è consuma un po' di miele in acqua tiepida, quotidianamente, e vedrai lentamente i globuli rossi aumenteranno. Se c'è più ossigeno nel sangue, d'improvviso senti un'esplosione di energia, d'improvviso tutto è attivo, il sistema di ringiovanimento nel corpo cresce, le cellule morte vengono sostituite rapidamente, il livello di inerzia che senti nel corpo è molto più basso, il livello di inerzia che senti nella mente è molto più basso. Il miele ha diversi tipi di impatto sul sistema. Se viene consumato puro, ha un tipo di impatto. Se viene consumato in acqua fredda, ha un altro tipo di impatto. Se viene consumato in acqua tiepida, è un diverso tipo di impatto. Vogliamo consumarlo in acqua calda qui, perché vogliamo che il sistema si apra. se lo metti in acqua bollente, una parte del miele diventerà velenosa. Quindi non dovresti mai metterlo in acqua bollente, o non dovresti cucinare il miele. So che nelle società occidentali le persone fanno torte al miele simili, lo cucinano. Se supera una certa temperatura, allora il miele diventerà velenoso. Quindi deve essere messo in... ad una temperatura che sia bevibile. A quella lo metti. Se è bollente, non lo metti. Il sonno non è una necessità nella vita di qualcuno. Ciò che il corpo richiede è il riposo. Il sonno è solo una forma di riposo. Molte persone cominciano a pensare... In Tamil Nadu, se qualcuno dice che sta riposando, significa che stanno dormendo. Non è necessario. Puoi sederti e riposare. Non è così? Sì? Puoi stare in piedi e anche riposare. Stai correndo. Se ti fermi, non ti sembra di riposare? Sei in piedi. Se ti siedi, non ti sembra di riposare? Ci sono molti modi di riposare. La cosa più importante è... Riposo significa che stai cambiando l'equazione dell'energia in cui il consumo viene ridotto. La produzione continua allo stesso ritmo. Dopo un periodo di tempo, ti senti rigiovanito perché il consumo è stato ridotto. Essenzialmente, stai gestendo l'equazione dell'energia. Se sei in attività, il consumo è maggiore. Qualunque cosa produci non è sufficiente. Dopo qualche tempo ti senti esausto. Perché il consumo è stato pesante. Se riduci il consumo e aumenti la produzione, dopo un po' di tempo ti senti energizzato. Il modo ideale per vivere è non c'è sonno nella mia vita. Ma questo non è possibile al momento. Il corpo ha ancora una certa inerzia. Quindi dorme un minimo. Il resto del tempo è a suo agio. Se mantieni questo a suo agio, allora il sonno non accade al corpo, a meno che non arrivi ad un certo punto di esaurimento. Il corpo non chiede mai e poi mai di dormire. Ma sicuramente chiede riposo. Se non sai come star seduto qui in modo riposante, lui proverà a riposarsi così. Se puoi stare seduto qui totalmente a tuo agio, sarà seduto qui per ore, senza addormentarsi. Altrimenti, questo è l'unico modo in cui sa come riposare. Se ti siedi qui ora, una cosa semplice che puoi fare è ti siedi, vieni e siediti qui. Sposta solo la tua attenzione dalla cima della testa fino alle dita dei piedi e vedi se è tutto sciolto, morbido, rilassato e a suo agio. O se sei ancora così. Semplicemente mettilo a suo agio. Più che puoi. Non tutto nel tuo livello cosciente. Per quanto puoi, consapevolmente, mettilo a suo agio. Vedrai di improvviso se sei il tipo che si addormenta alle 22. Se semplicemente per un'ora ti siedi qui a tuo agio, vedrai, il tuo sonno verrà posticipato di mezz'ora. Non avrai sonno alle 22. Naturalmente sei sveglio.